E' andata male, il partito è in pezzi. Chi aveva creduto fino all'ultimo nella strategia del segretario del PD, che fosse impegnato in una raffinata partita a scacchi, che la situazione fosse sotto controllo, ieri sera ha dovuto ricredersi. Bersani lascia, le dimissioni saranno effettive subito dopo l'elezione del capo dello Stato. Si dimette anche Rosi Bindi, presidente del partito. Beppe Grillo, dal palco di Udine, impegnato nella campagna elettorale in Friuli, ne dà notizia quasi in tempo reale. Il pubblico esplode in grida di festa. Sono saltati i meccanismi di responsabilità e solidarietà, ci sono pulsioni a distruggere, è il commento di Bersani ieri sera all'Assemblea Romana dei grandi elettori del PD al Teatro Capranica. Poche ore prima, nella stessa sala, la platea aveva accolto la candidatura di Prodi all'unanimità, con un'ovazione. Almeno così era sembrato. Solo che in aula i voti non sono arrivati. A scrivere l'epitaffio ci ha pensato direttamente il rottamatore, Matteo Renzi. La candidatura di Prodi non c'è più. Ma alle accuse di complotto il sindaco di Firenze risponde dico sempre tutto in faccia. Eppure, come osserva un Bersani sconsolato, uno su quattro ha tradito. Perciò il segretario, che aveva già pensato alle dimissioni, ha deciso di anticiparle. Me ne sarei andato in occasione del congresso, ma ora non c'è alternativa. Dopo la bocciatura di Franco Marini e poi di Romano Prodi, le dimissioni del segretario potrebbero essere il colpo fatale per il Partito Democratico. All'uscita del Capranica i volti erano tesi e adesso la parola d'ordine per la quinta votazione è astenzione. Ma i fatti hanno dimostrato che le indicazioni di voto nel PD di questi giorni contano poco. Le scelte potrebbero anche convergere su Anna Maria Cancellieri, proposta da Scelta Civica, oppure, all'opposto, su Stefano Rodotà, candidato del Movimento 5 Stelle fin dalla prima votazione, il nome su cui Bersani ha sempre ostinatamente glissato, suscitando malumori anche fra i suoi più fedeli. Ma sono ipotesi che spaventano. Sarebbe la dimostrazione che il partito di maggioranza non è in grado di...